Rimettiamo il fazzoletto qua dentro il pugno, brava, lo metto qua, ok, e adesso lo farò sparire Eh, c'è, rimane dentro il tuo pugno, non vogliamo vedere che cade niente per terra, eh Siete pronti? Ragazzi, guardiamo Voilà! Bucherò questi soldi Come? No, 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 no! Ehi, cosa stai facendo? No, no, no! Stai buccando i miei soldi! Molly, hai buccato i miei soldi? Ok, ragazzi, ok, ok! Ma che cosa? Ma che cosa mi stai prendendo in giro? Ma mi stai prendendo in giro! Ciao a tutti ragazzi, siamo Raby e Molly! E oggi... Perché mi stai copiando? Perché mi stai copiando? Oggi faremo 5 magie proibite Oggi faremo sparire Molly, guardate come si fa, è molto semplice No, 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 no! No, no! Facciamo sparire Max? No, dai, poverino, povero piccolo Max! Allora, oggi ti farò sparire, sei pronto? No, povero Max! Sei pronto Max? Attenzione! Sì, in sala B! Oh! È sparito! No, no, e adesso? Adesso lo farò di nuovo tornare Ma voi ragazzi dovete lasciare un mi piace Farò tornare Max solamente a 2000 mi piace a questo video No, 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 no! Allora, Molly... Vuoi che faccio sparire anche a te? No, assolutamente no, però per favore! Devi far tornare Max! Dopo lo faccio tornare Però ragazzi per farlo tornare abbiamo bisogno del vostro aiuto E mi raccomando iscrivetevi tutti a questo canale Perché potrebbe diventare una serie Ragazzi vi prego iscrivetevi Dobbiamo fare tornare Max! Molly perché hai fatto sparire Max? Allora, vi faremo vedere quindi queste magie Siete pronti? Sarà molto divertente Potrei quasi quasi per sparire anche Molly Allora ragazzi Qua abbiamo una scatola magica Guardate, trucchi di magia Ce ne sono più di 60 Oggi ne faremo qualcuno E vediamo un po' che cosa succederà Allora, io direi di iniziare con il primo Reddy Guardate qua Però un vero mago non rivela mai i suoi trucchi, vero? È vero, non riveleremo i nostri trucchi Però, però diciamo che questa volta Non ci saranno effetti speciali di video, eh Ragazzi sarà tutto vero Tutto qua, tutto vero Vedi questo, 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 questo Io sono tutti veri Allora ragazzi Lo vedete questo qui? Cos'è? Che cos'è secondo te? Un vaso È un vaso, esatto Un vasetto piccolino, piccolino Adesso io Fammi vedere Con i miei poteri magici Voglio vedere che non ci sia nulla Ok, però i trucchi del mago non si rivelano Non c'è niente, è un vaso Vabbè, vogliamo vedere Vabbè, è un vaso Allora io adesso con la mia fantastica bacchetta magna Non mi far sparire Non farò sparire te Potrei fare tornare Max Dopo, dopo, dopo Vabbè, dopo facciamo tornare Max Altrimenti viene qua e si ruba tutti Spiega che cosa fai Allora adesso qui dentro Proprio qui Farò crescere una pianta Una pianta Dai, ma non sei mica una maga Una pianta? Allora io adesso ho i poteri conferitomi dal mago Forrest Non lo so chi altro Adesso io farò crescere una pianta Ma come fai a far crescere una pianta? Farò crescere una pianta Ci credi? No Guarda, innanzitutto qui non c'è niente E qui c'è la mia fantastica bacchetta Ok Adesso la metto qua Sì Dai, ma tanto non succede niente Sì, mi sa la Fammi concentrare Vai, vai, fai Ho detto silenzio Attenzione, mi devo concentrare Mi devo concentrare Ok, sento che posso fare nascere una pianta Ma che cosa stai dicendo? Aspetta, aspetta Mi devo concentrare Ok Ok ragazzi Ok Ma che cosa? Ma che cosa? Mi stai prendendo in giro Ma mi stai prendendo in giro Una pianta Ma che cosa? Ma ragazzi Voglio sapere come hai fatto È un trucco di magia Ma Revy ma non ce l'ho Ragazzi ma avete visto tutti che era vuoto E adesso c'è una pianta Adesso c'è una pianta Era vuoto prima E adesso c'è una pianta Sì, non è molto stabile Forse bisognerebbe metterci un po' di terra Un applauso a Magarabine Sì Il primo trucco direi che è venuto Ragazzi Voi nel mentre che guardate il video Guardate i nostri trucchi Scriveteci qua sotto nei commentini Qual è il vostro preferito Per il prossimo trucco Avrò bisogno di una normale penna E di 50 euro gentilmente offerti dal pubblico Ci vado euro Revy? Ma c'è il pubblico qui sarei io Ci sono solo io 50 euro? Ma come? Io non ti do 50 euro Dai, te li ridò dopo No, no, no Parola di mago Te me li fai sparire come Max Non te li do 50 euro Non te li do Dai Ma allora mi dici cosa ti servono? Adesso ti faccio vedere Li vuoi colorare? No, non faccio nulla Dai, allora facciamo una cosa Tieni qua Questi 50 euro Sappi che mi dovranno tornare Tutti e quanti E soprattutto Vado via Con gli interessi Quindi mi dovrai dare 50 euro Più un pacco di caramelle Va bene Quindi 50 euro Non farli sparire No, non romperli Allora quindi Bucherò questi soldi Come? No, no, no No, no, no Calma No, no, no I soldi non si buca Allora il pubblico per favore No, il pubblico Niente Quindi Farò un buco No Farò un buco No Ok Ok In questi soldi Ok Sei pronta? No, no Cosa stai bucando? Cosa stai bucando? Allora Per fare questo buco Stai bucando? Ehi Ehi Cosa stai facendo? No No Stai bucando i miei soldi Molly Hai bucato i miei soldi? Ragazzi Ho bucato i soldi della Reddy No Dai Lo sapevo Guardate C'è proprio un buco No, no Io non ci posso credere Cioè Hai bucato i miei soldi Fammi vedere Fammi vedere Non puoi tenere Ragazzi Ha messo una pena Dentro i miei soldi E adesso Con le parole magiche Sì Tirano fuori questa penna E il buco sparirà No Siete pronti? Non ci credo Siete pronti? Sì 3 2 1 Che cosa? Non c'è più un buco Avete visto? Guarda eh Lo ribuco eh Ok Di nuovo bucato Sì Hai visto? Sim salamin Conditin Col parmigianin Che cosa? Magia Ma che? No vabbè Grazie per i soldi No 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 vieni qui vieni un po' qui e vieni un po' qui e andiamo a sparire eh Allora ragazzi molly ha bucato i miei 50 euro e poi come per magia tutto normale Allora eh qua c'è quel quadra che non cosa eh Mare cosa è sta roba? Allora adesso farò un altro trucco di magia Eh la mia bacchetta per favore dove è finita la mia bacchetta? Vieni Perfetto Perfetto Ora con la mia bacchetta potrò fare una magia Vedete questo contenitore tanto carino? È il porta uova Perfetto No come porta uova? È il porta uova È un porta palline È un porta palline Vedi? Questa è una pallina Guarda che carina è questa pallina Posso vedere? Ok Posso vedere? Sì effettivamente ragazzi fidiamoci È una pallina È una pallina Ok vedete che qua non c'è niente eh Qua non c'è niente Guarda cosa vuoi vedere Qua non c'è niente Volete vedere anche questo? Non c'è niente Ok Quindi mettiamo la pallina Chiudiamo Riapriamo E la pallina è qui Sì effettivamente non è una magia Aspetta Adesso prendiamo questa pallina Dove l'hai messa? Ok Adesso questa la regalo a te Molly Ok la tengo qua E io questo lo richiudo Ok Adesso ti farò vedere Che dicendo La parola magica Sì Sin salabim Ok Adesso la pallina è tornata qui Ci scommettiamo Ma aspetta Ma ce l'ho qui in mano È impossibile No è qui la pallina Vediamo Tadà Ma che cosa ragazzi Ma l'ho detto Ma che cosa Eh no se l'allontani Sparisce Eh se l'allontani Sparisce E sparisce Ma come è possibile E sparisce se l'allontani Ma come è possibile Ragazzi c'è nella pallina No 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 Qui c'è qualcosa che non va Eh lasciala lì allora Va bene È impossibile Reddy Eh c'è la pallina Guarda c'è la pallina Ma come è possibile Guarda adesso Mettila via Guarda La riprendo Mettila lì Ok allora Chiudiamo Ce l'hai in mano Mi devo concentrare Perché ce l'hai in mano Quindi devo farla Riapparire Concentrazione Allora si Cusciala Bim Pallina Per favore Riappari qua No vabbè Dai Io non ci posso credere Ragazzi Come hai fatto Voglio saperlo Eh ho fatto che Eh ma allora Però se l'allontani Qui sparisce Qui sparisce Ecco Perfetto La rimettiamo qui Adesso nessuno La prende Per il mio prossimo numero Avrò bisogno di questo Fassoletto qua Non ho nulla in mano Come potete vedere Adesso Dobbiamo mettere Il fazzoletto Qua dentro Nel tuo pugno Aspetta lo devo mettere meglio Ok Allora aspetta Rimettiamo Il fazzoletto Qua dentro il pugno Brava Ok Lo metto qua Ok E adesso lo farò sparire Eh sì Rimane dentro il tuo pugno Non vogliamo vedere Che cade niente per terra Siete pronti Ragazzi guardiamo Voila Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Quindi ragazzi Se vi è piaciuto questo scherzo Lasciate un bel mi piace Cos'hai su quel dito Cos'hai? Cos'hai? Cos'hai quel dito? Fatti vedere Il mio dito Fatti vedere il dito Fammi vedere Un vero mago Non rivela mai Fammi vedere questo 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 Quero Non c'è dentro il tuo pugno Guarda la magia Che magia Che magia Dai Non vale Non rivela mai I suoi trucchi Molly ma non vedi niente di strano? No cos'è il tuo prossimo trucco? Sì il mio prossimo trucco Non lo vedi? È lì Guarda Guarda Il serpentello Eh non lo tocco Non lo toccare Perché questo serpentello Si muove solo Quando glielo dico io Io muoverò le mani Su questo tavolo A mo' di magia E lui si muoverà con me Vabbè Vediamo Non ci credo Però Guarda le mie mani Aspetta Aspetta voglio vedere mezzo Il potere dalle mie mani Ok lo sento Ho il potere del serpentello Guarda Il potere del serpentello Guarda Ma che cosa? Ma si sta muovendo Oh Hai visto? No Mi sembra non aver visto qualcosa Non c'è niente Guarda Oh Ma come va a muoversi? È la mia mano che la muove È la mia mano Dammi qua Guarda la mia mano Lo vedi Vieni qui Cosa? Questo trucco è fallato Eh C'è un filo Reby Sì? Torna su Vieni qui Dammi quel coso No Ciao Ciao Ragazzi Questi trucchi di masia Sono veramente vietati Se ne volete altri Fateselo sapere Adesso devo far comparire Max Un'altra volta Ok Max Comparius Subitos Oh Eccolo No vabbè Non ci posso credere Qui sei stato bravo Molli Hai fatto tornare Il nostro piccolo Max Ma Max Dov'eri finito Scusa E adesso andiamo Nell'isola che non c'è Adesso andiamo a fare Una bella dormita Ciao Dove andate? Dove andate? Ciao Niente ragazzi Mago Molly Qui c'è Mago Molly Un po' furbetto Un po' tarocco Però va bene Mago Molly Insieme a Maga Rebbe E il piccolo Max Se ne sono andati Quindi Ci vediamo prestissimo In un nuovo fantastico video Ciao 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 Grazie a tutti.